Alfredo Cospito resta al 41 bis, così ha deciso la Cassazione che dopo otto ore di Camera di Consiglio ha rigettato il ricorso presentato dai suoi legali che ne chiedevano la revoca dopo il no del Tribunale di Sorveglianza. A Roma, piazza Cavour, davanti alla Cassazione, tutto il giorno sit-in degli anarchici in segno di solidarietà con Cospito, in sciopero della fame dallo scorso ottobre contro il regime di carcere duro a cui è sottoposto. L'udienza per l'anarchico era stata fissata all'inizio dalla Suprema Corte per il 20 aprile, poi anticipata al 7 marzo e successivamente al 24 febbraio per le condizioni di salute del detenuto, prima trasferito nel penitenziario di opera a Milano, poi al reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano.